Buonasera studentesse e studenti, in questa breve video-lezione correggeremo il modulo di verifica sul capitolo ventunesimo dei Promessi Sposi. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. Da chi è pronunciata questa frase? Naturalmente è pronunciata da Lucia. Lucia è prigioniera nel castello dell'innominato, è nella sua stanza, nella stanza che le è stata riservata insieme alla vecchia, come viene nominata da Manzoni. Questa frase viene pronunciata nei confronti dell'innominato, perché l'innominato ha dato l'impressione a Lucia di non essere fermo e deciso nel suo proposito, qualunque esso possa essere, perché Lucia lo ignora. Dunque Lucia spende a suo favore questa frase. E' una frase, domanda 2, che viene pronunciata con speranza, perché Lucia vede appunto che l'atteggiamento dell'innominato non è minaccioso. L'innominato le dice non voglio farvi del male e posso farvi del bene. Dunque è una frase pronunciata con speranza. E questa frase fa particolarmente effetto nell'animo dell'innominato, è proprio la frase che abbiamo detto innesca, o meglio se vogliamo porta a compimento, la crisi che è già in atto nel profondo dell'animo del personaggio. Quello che angoscia l'innominato è l'eccessiva quantità di misfatti commessi, di male opere portate a compimento, l'idea di un perdono, di un perdono per un minuto di vero pentimento e di vera contrizione è una realtà che inquieta l'innominato. Come abbiamo detto Lucia è chiusa in una stanza insieme a la vecchia, come la nomina Manzoni. Lucia, dopo una notte insonne e agitata, in cui si rifiuta anche di stendersi sul letto che le era stato offerto, per salvarsi dalla situazione disperata prega, nella preghiera acquisisce una certa sicurezza, le si diradano i dubbi, le paure e fa un voto. Fa un voto alla Madonna. Se salva lei e Agnese da questa situazione disperata, lei si dedicherà per sempre alla Madonna e rifiuterà e rinuncerà alla vita da sposa che si era prefigurata. Ha ragione quel bestione del Nibbio? Uno non è più uomo. È vero, non è più uomo. Questa frase viene pronunciata dall'innominato, naturalmente. L'innominato ha parlato con Lucia, inizialmente quando il Nibbio gli aveva raccontato degli effetti che il pianto e le preghiere di Lucia avevano avuto su di lui, l'innominato non ci aveva creduto, l'aveva quasi preso in giro, dopo aver parlato con Lucia l'innominato si rende conto che effettivamente il Nibbio aveva ragione, che la presenza di Lucia, le preghiere di Lucia effettivamente inducono a compassione e se si prova compassione non si è più uomo, cioè non si è più in grado di compiere azioni brutali. La frase di Lucia, Dio perdona tante cose per un'opera buona, porta a compimento, abbiamo detto, la crisi che sta travagliando l'innominato e alla conclusione di una notte insonne l'innominato prende anche in considerazione il suicidio, prende la pistola che ha sempre accanto mentre dorme e se la punta contro. Perché? Perché è sommerso dalle memorie intollerabili. Quali sono le memorie intollerabili che affliggono l'innominato? Sono naturalmente i misfatti commessi. E che cosa trattiene l'innominato dal suo proposito? Cioè che cosa lo trattiene dal suicidio? È naturalmente l'ipotesi di un giudizio di Dio. Benissimo, non riesco più a convivere con il ricordo di tante male azioni commesse, allora mi uccido. No, perché attenzione che c'è un giudizio di Dio e il suicidio è naturalmente condannato da Dio. Al sorge del sole, dopo questa notte insonne, l'innominato nota una processione di persone. Se vi ricordate l'innominato viene svegliato da un mormorio insistito ma distante, si affaccia alla finestra e vede questa processione. Ok. 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 Ok.